Quando è possibile considerare un disegno una vera e propria opera d'arte? Un disegno è sempre un'opera d'arte, è soltanto una tecnica o un medium differente. Cosa significa? Che anche i disegni hanno medesima importanza e valenza di dipinti, sculture e olio. Quello che cambia è semplicemente la tecnica utilizzata per realizzarli, ci sono artisti famosissimi ed importantissimi che utilizzano solo il disegno quale tecnica e le loro quotazioni sono alte al pari di oli, dipinti o acquerelli. Quindi un disegno è sempre da considerare una vera e propria opera d'arte con valore di collezionabilità e valore artistico.